signori ben giunti alla decima ed ultima puntata di questa serie che sia ora o fra cinque minuti oggi prenderemo la decisione di andare nelle americhe e cercare di stabilire un outpost permanente eccolo qua questa decisione ho letto due robe e sembra che abbiamo una possibilità su quattro di farcela che data la mia fortuna è un 100% praticamente però tant'è adesso i soldi ci sono il prestigio c'è la volontà c'è forse forse prima mi conviene sganciare di là una persona mio fratello che non fa mai un cazzo vuoi andare all'ovest lui ci andrebbe anche no 10% che accetta trovo qualcuno da sganciare all'ovest magari abbiamo qualcuno in prigione dovevo abusarne un pochino più di questa vai all'ovest exile to the west 68% ci serve network vai è partito no ha rifiutato oh ma nessuno che vuole andare all'ovest pure con un tons of percento di sito di levarsi i coglioni niente comunque sono possibilità di essere giocata vorrei dire che andremo per i cavoli nostri è perché ho fallito fail to send someone ah vedete se fallite a mandare qualcuno di là aumenta pure la la cosa sfigata ma tant'è tant'è vedo ovviamente noi non siamo pronti ovviamente con un 25 per cento cosa vuoi essere pronto spero che a breve arrivi qualche altro evento tipo mandare il supporto al grindland miglioriamo ancora qualcosina giusto qualcosina per avere un 1 per cento 2 per cento in più che riusciamo a portarla a casa tecnicamente se vado qua no no dovevo andare per forza nelle decisioni per vedere come siamo messi in gronellandia però quello che possiamo mi do giusto mi do giusto 5 minutini della mia vita reale di far andare avanti sperando che si sblocchi qualche evento oppure partiamo noi e quel 25 per cento sarà l'ultima possibilità che diamo prima di chiudere il gameplay buono signori mi sono fatto due conti e ci vogliono almeno cinque tre anni per riuscire a rimandare qualcos'altro quindi no noi si va così spavaldi con tre possibilità su quattro di finire veramente male il sogno di vinland verrà realizzato non mi lascerò convincere anzi non mi sono lasciato convincere da quei patetici argomenti di rischi e problematiche nell'andare una terra così lontana e il fatto che sarà solo un peso per la comunità della groenlandia quindi ma tra tutto prostitute la vinland è una regione fertile perfetta per stabilircisi anche se non ci sono risorse di valore quindi sono stato capace di reclutare alcune persone che la pensano come me e sono volenterosi di far vedere il loro coraggio e la loro bravura quindi cercheranno di stabilire un piccolo outpost in questa terra lontana e questa sarà la nostra prima base la testa di ponte della vinland per future attività nella regione in futuro forse questo posto crescerà fino a diventare una vera cittadina gli auguro il meglio del meglio della fortuna però non mi fa scegliere il party ci smeno anche tipo mille monete d'oro per cercare un costantino che mi va in quel posto che cazzo stanno facendo qua sotto che sono già tre volte che ticca l'early catalyst è partito qualcuno ha fatto una cazzata e un altro un più tre ho riuscito a imparare anche il gaelico vai così non avevo niente da fare ho detto prego il gaelico per quale motivo no buono aspettiamo le prime notizie che mette in piedi imbastisce tutta la spedizione perché secondo me serve per forza che qualcuno vada a comandare ma che cane partiamo bene non c'entra con la spedizione però è quello che è allora sono nella mia bellissima casa lunga e entra dentro il maestro della caccia emundr con in catena il guinzaglio diciamo un orso come pet lo porta dentro la mia sala del trono in catena si no che poi dopo specifica e sinceramente qualcosa che non mi sarei mai aspettato di vedere nella vita dice con tutta onnistà mio signore presento questa bellissima bestia come regalo un premio della mia ultima caccia tutti i regnanti hanno avuto animali esotici e sua grazia ha bisogno di dimostrare la loro bellezza insomma quello che c'è è chiaro che edmund vuole tenere sto 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 cosa qua perché mai dovrei volere un orso come pet tenendo conto che io ho già un cane né prima non ve l'ho detto ma abbiamo il nostro se mi dimenticato il nome è il cane penny wise pet wise nose wise potremmo lasciarlo lui perde un po di ma prende wounded 25% you gained 42% il treat wounded brutta storia ma sapete che roba io amo il rischio ma perché no il mio pet adorato ho già perso subito il treat wounded mi ha tirato una zampata instant e il mio medico fa ti fixo io non ti preoccupare e mi ha situato già subito quindi abbiamo pure l'orso giusto non so dove cavolo l'ha messo ma dovremmo averci lo sto cazzo di buff dell'orso o forse era una possibilità tipo rimani ferito una possibilità di quello che c'è l'orso peccato mind and body comunque mia figlia che ragazzi sta venendo fuori un gioiello ah lei lei è brava con la situa qua allora sì dai facciamo esercizi assieme così diventiamo più fighi oh guardato a te dico pure io cioè allora non continuerò questo gameplay forse per i cazzi miei sì non lo so metti caso vi faccio uno scrino qualcosa in futuro per quello che sarà se andrò avanti non è detto però tempo libro può darsi ma sta ragazza qua sta venendo fuori cioè è ambiziosa paziente che a me non dispiace e cinica che gli dà sia intrigo che learning poi dopo quando finirà questo qui non so che buff gli darà forte a amazonian e atletica questo senza nessun cittino tra irgolette di insomma non ho preso la dinastia quella per eh vaffanculo c'è capito la dinastia quella per far aumentare la possibilità che gli vengano dei tratti positivi ora mi devo ricordare dove cavolo ah è qua sotto è qua sotto solo che mi è stata sculata non ho preso così qui del blood per migliorare i tratti cioè già così di base però senza avere i tratti intelligente o geniale eccetera eccetera a 795812 quando diventa grande secondo me questo va diventata una grande a bomba suo fratello eh facciamo perdere vicfus dai oi boh arrivano delle news dal vinland allora c'è stato meno preparazione ed eventi di preparazione rispetto agli altri il che a questo punto non mi stupisce perché i primi eventi di quando abbiamo scoperto la groenlandi sono stati inferiori rispetto a quelli dopo di quando abbiamo scoperto la vinland la prima volta che poi ci ha sbloccato tutti gli altri eventi con i buff eccetera eccetera ma lasciamo perdere quella storia qua che mi sto solo andando a casinare eh oggi ho ricevuto notizie dell'accampamento che abbiamo fatto a vinland fortunatamente quelli che dicevano che era tempo perso che non ce l'avremmo fatta si sbagliano almeno per ora eh il piccolo gruppo di settlers che ho mandato là è riuscito a stabilire il primo small outpost forse possiamo anche pianificare la fondazione di un vero e permanente paesello un giorno forse ma non dobbiamo farci i castelli in testa per adesso i tizi che non erano d'accordo comunque hanno ragione almeno eh per la parte dove tutto questo ci costrà un bel po' prima dobbiamo essere sicuri che il posto si sviluppi bene e che le risorse di questo gruppo non vengano spese in vano vedremo cosa succede non mi pare abbia toccato questo ma ci ha dato il catalyst positivo e in più la dinastia ha guadagnato vinland outpost andiamo qua questa dinastia è stabilita in vinland intendo non usarlo come base delle operazioni per ogni vinland outpost che esiste la greenland diminuisce ah diminuisce le robe di tre in in quella cosa lì di due in quella in uno in quell'altra ok praticamente il vinland toglie risorse alla greenland come immaginavo in un certo senso quindi bisogna stare attenti a quello che si fa arrivano altre news a una dietro l'altra così va buono re olaf il socialista stabilito not post vinland nel nome della nostra grande dinastia che non riesco a pronunciare dai è nella sua speranza che possiamo usarlo come testa di ponte per le nostre ambizioni in terre lontane e diventare miti leggende certamente c'è un numero di persone che sono scettiche se questa avventura può funzionare nel lungo periodo perché anche se la vinland è un territorio fertile e ricco è anche estremamente lontano dalla groenlandia che è già di base molto lontana dalla civilizzazione e mancano molte risorse di di lusso possiamo solo sperare che la nostra dinastia prevarrà alla fine e che la vinland sarà un successo il nostro outpost cosa succede ora abbiamo guadagnato ripeto di nuovo questo e attiva però il build house catalyst ancora forse erano legate quelle due cose lì abbiamo dato un più 15 per no un cazzo siccome questo pesa siccome questa roba qua pesa sulla nostra roba va in subsistence tecnicamente prima di andare in vinland conviene finire questa lo struggle che c'è della greenland di base comunque verso la la soluzione cosa che io non farò in questo gameplay però ci siamo capiti vediamo se abbiamo delle scelte news e yes send an expedition to the west ah io faccio tutto è support vinland allora costa di più costa di più di base rispetto che a supportare la greenland però la sito sono quelle allora mandiamogliele subito e io direi di iniziare già con immagino che sarebbe quasi lasciarata no è proprio la sua mi sembrava simile a quella del greenland invece no questo qua incrementa la viability by random amount e però diminuisce la resilience network orca puttana cioè se diamo una mano oh dio mio se dai una mano alla vinland diminuisce la greenland ma se non dai una mano alla vinland diminuisce la vinland è bene siamo ho fatto l'ottima scelta ho fatto poporca vacca devo solo vedere le statistiche fino a 10 fino a 10 non mi sembra cambino di niente minimamente proprio questo sì ci dà più prestigio questa è la versione le persone possono contribuire e contribuire in varie maniere dai proviamo proviamo a mandare altri supply speciale per la vinland spero che arrivino al sicuro poi noi mandiamo un'altra spedizione ad ovest e questo giro vinland non era questo qua no questo l'avevamo già mandato a cercare forse il villano either church è proprio là mandiamolo a markland visto che l'altra volta abbiamo oppure ancora devo aumentare il network della greenland però perché è solo 489 mandiamolo ancora una volta heluland più che altro per cercare di tenere in piedi no la mia guardia bradipo non la voglio mandare dai chi è che dopo chi è che posso pagare che questo 50 è quello che mi ha regalato l'orso non sembra che vaga la pena piuttosto bertord che è sposato con una mia parente di qualche tipo sto tizio qua è il mio steward c'è no non è il mio steward il mio champion è l'analytic villain ma sapete che roba io ce lo mando mando lui bartolomeo lì ah beh in verità mi fa pagare più o meno tutti va buono vai bertoldo come cavolo ti chiami ognari oggi faccio la storia cazzo buona notizia la situa arriva dove deve arrivare e guardate un po aumenta la viability della cosa di uno eh che bello e abbiamo perso 5 e 7 sulla greenland abbiamo detto 1 per aver perso 11 in totale certo che siamo stati veramente figli e ora sto pesando con ogni azione che faccio per la vinland sto pesando sulla subsistence cosa e vabbè eee come di già figa allora ho ricevuto brutte notizie dall'outpost dal vinland sembra che la più la maggior parte dei settlers i colonizzanti non so e non solo quelli che sono vicini a mia famiglia hanno abbandonato tutti i settlements che sono stati stabiliti in quella zona ci sono rapporti in conflitto sul perché è successa questa cosa qua alcuni dicono che i nativi erano troppo aggressivi che continuavano ad attaccarli altri dicono che l'abbiamo pianificata col culo questa potrebbe essere la vera la vera motivazione dietro eh vabbè alcuni a casa addirittura sospettano che i settler hanno perso la loro forza di volontà nel voler rimanere lì realizzando che non c'era un gran beneficio economico nel farlo qualsiasi sia la causa l'abbiamo preso in quel posto da 16 a 5 andiamo bene bene intanto l'altra spedizione verso hell la land insomma terra quella scura arriva il piccione viaggiatore con un messaggio del nostro boertnot come cavolo si chiama dice che girando nella zona la sua crew è arrivata allo scheletro anzi in un posto dove c'erano diversi scheletri erano tutti accompagnati da alcuni trinket curiosi trinket non saprei come proprio tradurla ninnoli ninnoli curiosi alcuni dei quarli erano di poco conto ma altri che sembravano proprio gioielli e utensili dopo un'ulteriore investigazione nella zona dove non ha trovato nessuna attività di insomma non c'era vita boertnot ha deciso di sotterrare gli scheletri e prendersi alcuni dei materiali almeno quelli più utili un'interessante scoperta ragazzi ci dà più una situa buona nel viaggio almeno questo altra buona notizia ragazzi ci arriva da boertnot che mentre viaggiava sulla costa di non so dove ha trovato una gran quantità di legno di buona fattura che era tutto lì sapete quello la deriva no legno la deriva la groellandia è pieno di questo legno la deriva che arriva da terre lontane viene trascinato fin lì questo legno può essere usato per accedere il fuoco per riparare la nave o per costruire dice ma immagino più per riparare comunque bertnot ha detto che non è raro trovare che è abbastanza raro trovarne così tanto di questa qualità e quindi lui e la sua crew hanno speso un bel po di tempo alla pesca a legno famosa pesca a legno 2-0 2-0 per noi boys e anche sto giro tornano vincitori portando a casa un po di soldi un po di pietà hanno aumentato la resilience della situa non capisco bene però quindi cioè mi sembra abbia meno valore forse forse è tutto nell'insieme va calcolato tutto assieme cioè tra gli eventi di supportare direttamente le sfige che possono succedere qui e questi eventi uno più o meno riesce a cavarsela in più ci ha attivato eccoci da anche punti dal lato quello buono non solo quello negativo di tutta la faccenda adesso che cazzo sta succedendo a corte cos'è che ha sidil bradipo qua da dire è sotto equipaggiato no 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 spendiamo subito i soldi e diamo a questi uomini le armi che servono diamo subito sid le armi che servono se becca beh le miglior qualità come potete notare grigia con un più 4 vabbè è meglio di un pugno nel culo vado ad immaginare c'è qualcos'altro che possiamo fare direi di no abbiamo visto più o meno tutto signori quindi non mi voglio dilungare più di tanto ci abbiamo provato ed abbiamo fallito in verità è ancora in piedi non so come andrà però con gli è rimasto 5 di vivibilità non credo work era più di tanto però dulcis in fondo la nostra avventura giunge alla fine ola fra la è riuscito a resistere ha allevato dei figli almeno una sicuramente buoni anche il fratello è diventato strong nel questo momento qua quindi c'è proprio nel sangue questi ragazzi cazzarola abbiamo perso udro abbiamo perso bodri abbiamo perso folk it fin troppo giovane nostri parenti sono spariti nell'ovest nemici che ci porteremo fino alla loro fine che spero sia veloce altri amici sono ancora con noi altri eroi se ne sono andati e questo è ovviamente non abbiamo fatto una grande espansione giusto quello per tenere in piedi la cosa che dire la rice si conferma una delle migliori mod e neanche troppo impegnative neanche troppo pesante non dà fastidio arricchisce il gioco di quel che gli serve perché purtroppo ancora ad oggi ck3 difetta di parecchia roba è vero che usa una meccanica che è stata aggiunta in ck3 cioè quella dello struggle ma lo arricchisce ancora di più la rice con altri eventi tipo quel mini gioco qua di tenere mandare supporto far aumentare la resilience e il network eccetera eccetera che sono un'ulteriore evoluzione del sistema dello struggle a me non dispiace affatto alcuni l'hanno odiato in iberia però più lo gioco più penso che possa diventare interessante e andrebbe magari usato anche in altre in altre regioni se così fosse sicuramente ci sarebbero stati forse dai sicuramente no però molto probabilmente ci sarebbero stati anche altri eventi se avessimo avuto successo se fossimo andati feudali e poi avessimo girato quello quant'altro però mi sembra di averla già allungata abbastanza e di aver fatto vedere abbastanza signori salutiamo il nostro caro socialista e sua moglie salutiamo anche questa serie di ck3 che arriva alla fine e ci sentiamo la prossima volta con quel che sarà per il futuro qualsiasi cosa sarà un saluto a a a a a